Soprattutto l'edizione invernale che si svolge all'Aquila è rivolta con una particolare attenzione ai bambini coinvolgendo le scuole, nei cinema, quindi è un pubblico che è giustamente molto attenzionato ed è oggi quello del mondo del cartone animato, dell'animazione in generale. I tecnici lo chiamano transmediale, non so se hanno inventato un termine nuovo perché ogni 2-3 anni l'evoluzione tecnologica produce nuove modalità espressive, però essere vicini ai giovani, coinvolgerli sin da piccoli è davvero molto importante anche dal punto di vista pedagogico e della loro crescita. Si tratta di guardare con attenzione a quello che poi viene proposto sul piccolo e sul grande schermo e che inevitabilmente condiziona anche la loro emotività e la loro crescita. Presidente, questa manifestazione ormai richiama tantissimi appassionati, è un punto fermo tra la cuore e pescare, edizione invernale contro la carriera, insomma tante le novità. Proprio così abbiamo investito negli anni scorsi su questo sodalizio con la RAI che si consolida e continua a portare sempre novità e crescita nel suo cartellone artistico. Siamo molto contenti di questo, abbiamo fatto questa scommessa che stiamo vincendo perché RAI ha rinnovato l'impegno con l'Abruzzo, non era accaduto nelle precedenti tornate in cui Cartoons faceva un triennio e poi cambiava luogo, andava in giro per l'Italia. Arrivati in Abruzzo si sono trovati talmente bene di aver deciso di continuare, noi da questo punto di vista non possiamo che esserne felici perché il nostro obiettivo è proprio quello di dimostrare che l'Abruzzo è la location ideale per certe iniziative, per certe manifestazioni e la RAI ci dà l'opportunità di avere un palcoscenico di rilevanza nazionale e internazionale.